prima di iniziare con questo video il caro che è stato scelto da alexios per l'appolamento sulla mia pagina patron con il livello t rex dal fenomenale è tutto io mi chiamo come ixarax sono il re dei direx questa è la nuova intro musicale io sono il fenomenale benite fedeli l'angelo ci invita venite venite a betlemme nasce per noi cristo salvatore venite adoriamo venite adoriamo venite adoriamo il signore il signore gesù la luce del mondo brilla brilla in una grotta la fede la fede ci guida la fede ci guida a betlemme brilla la fede ci guida la fede ci guida la fede ci guida pericolare il signore la fede ci guida la fede ci guida la fede ci guida Venite e adoriamo, venite e adoriamo, venite e adoriamo il Signore Gesù. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdere i suoi video. E vorrei ringraziare a tutti coloro che supportano la mia pagina Patreon, in particolare Alexios con il livello T-Rex. Dalla fenomenale AkumaXRex è tutto. Montè col vino, non v gly!